Quello che vi ho appena mostrato è un curl in concentrazione. Come fare per eseguire questo esercizio? Allora andiamo a munirci di un manubrio. Lo carichiamo noi a nostro piacimento secondo il nostro allenamento. Andiamo a tenere le gambe aperte in questo modo quindi ci sediamo su una panca o una sedia. Io ho a disposizione una panca quindi utilizzo una panca. Apriamo le gambe e andiamo a posizionare il nostro braccio destro. Io in questo momento sto facendo il curl in concentrazione nel braccio destro quindi ve lo spiego dalla parte destra. Quindi metto un attimo giù il mio manubrio così vi faccio vedere come posizionare il braccio. Allora io vado a portare la parte questa del mio braccio proprio incollata all'interno della mia coscia destra. Quindi la mia coscia destra mi blocca completamente il braccio. Andiamo a riprendere il nostro manubrio e facciamo questo movimento che deve essere molto lento perciò si chiama curl in concentrazione. Quindi lentamente effettuiamo la discesa controllando andiamo a stendere quasi completamente il nostro gomito rimane solo leggermente piegato e molto lentamente vado a riportare il mio manubrio verso la mia spalla. Lentamente scendo, entrago bene e lentamente mi riporto su. Facciamo attenzione a non andare a muovere la schiena mentre si esegue questo esercizio. L'altra mano libera che comunque non sta lavorando posso tenerla dove mi viene più comodo. Sulla gamba la possiamo tenere così libera verso il pavimento, la posso tenere sul fianco. Tenetela come meglio preferite. Ciao e buon allenamento! Grazie a tutti!